Perfetto, ci troviamo qui a Battibai, a Balne, il proprietario della Balnea, Orlando Caprino. Orlando, oggi questa Absolute Energy, come è andata? Come hai visto l'andamento, l'affluenza? Io credo bene, molto bene, in quanto c'è stata una consistente affluenza, molto ieri, proprio tantissima gente ieri ha partecipato, un po' meno oggi, però comunque al consuntivo le due giornate credo che siano state eccezionali. Molta energia, molta professionalità, perché devo dire, tutti gli intervenuti, sia i nostri amici locali, tra virgolette, o locali, Alfredo Pedrosino ed altri che adesso non ricordo il nome, Antonio Colavolpe, sono tutti ben elencati, nei programmi ci sono stati appunto questi due americani, Jim Lopez e Gil Cooper, molto bravi ed efficaci nella loro rappresentazione. Una cosa ti volevamo chiedere, l'anno prossimo ci risterà di nuovo questo Absolute Energy? Con Alfredo abbiamo avviato un certo ragionamento, sicuramente io spero che la ventiduesima edizione si possa svolgere qui da noi, nel frattempo può darsi che ci saranno anche degli altri eventi, nel frattempo diciamo da un anno all'altro. Perfetto, da parte di tutti complimenti della struttura e grazie Orlando Pedrino. Grazie a voi per la presenza e grazie a tutti per la partecipazione. Grazie.